guarda qua si vede solo il bagliore dei fari non si vede nient'altro è incredibile è veramente una cosa pazzesca questa è le mandinotte mi sembra di non aver mai fatto il commissario non mi ami vabbè c***o vediamo sulle 1 di air questo è quello che vediamo sulle 1 di air sulle 1 di air 1 di air vabbè 11 e 10 di sabato 16 giugno 2012 adesso arrivano adesso arrivano non vi preoccupate eccolo questo è un Ferrari è un sorpasso tra una Rebellion e una Corvette numero 40 48 i numeri li riesci a intraprendere a intravedere 80 12 e questo è un s*****o adesso tu mi devi spiegare che ti faccio dare la luce blu perché? dopo quando dobbiamo stare alla blu sarà un casino Abo ce lo spiegherà io le do a c***o le ultime macchine poi spegniamo secondo me si vedono dai colori dei fanali però questo è un Audi la numero 3 queste erano ovviamente Corvette chiudiamo con l'ultima appena arriva sta finendo la chicane si sta lanciando sul dritto è un'altra Corvette no è un Aston e questo Swisher era l'Audi a 2 a poi a a a a il video è stato tra le 4 e le 4 e mezza quando Cristi se l'ha cominciato a darci è incredibile lo spostamento d'aria che hanno quando ti passano di fianco la città il video è stato la città il video è stato Sì, sì, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti.